Io ho la fissazione della questione religiosa, forse perché sono agnostico, ma io credo che quello in questo momento sia uno dei più grandi e più sottovalutati nemici dell'umanità è la religione usata come arma di distruzione di massa, perché di questo si tratta. Io vedo il jihadista, il patriarca Cirillo che vuole invadere l'Ucraina per salvare dalla corruzione occidentale e dall'omosessualità i poveri ucraini e l'ebreo ultraortodosso che vuole riconquistare tutti i terreni, tutti i territori così come vengono raccontati dalla Bibbia, non riesco a non metterli sullo stesso piano. L'unica domanda che mi faccio è come si possono organizzare tutti gli altri, indipendentemente dalla nazionalità, dal credo politico, se è ancora possibile fermare questa pazzia.